e salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video allora oggi parliamo di amazon prime video e delle pubblicità nei servizi streaming allora che cosa è successo da un po di tempo su amazon prime video ora c'è la pubblicità è partita in italia la sottoscrizione aggiuntiva da 1,99 euro al mese per vedere i contenuti in streaming on demand di prime video senza le pubblicità per passare alla versione senza pubblicità appunto bisogna pagare questo questo prezzo insomma questo costo di 1,99 euro perché la pubblicità amazon ha spiegato l'inclusione della pubblicità nell'abbonamento standard come un sistema per continuare ad investire in contenuti interessanti e di qualità tuttavia promette un numero inferiore di annunci pubblicitari rispetto alla tv tradizionale e ad altri fornitori di servizi streaming proprio ragazzi me ne sono accorto l'altra sera mi stavo rilassando guardando una serie a un certo punto noto che ci sono delle interruzioni appunto pubblicitarie ogni credo 20 minuti circa guardi esattamente qui non sono sicuro ovviamente e ti devi esorbire per forza questa roba appunto se non si attiva la sotto iscrizione senza pubblicità si perde la visione di contenuti in dolby atmos e dolby vision che verrà sostituito da hdr 10 e hdr 10 plus praticamente però a parte questo cosa ne penso nel senso ho preso come esempio prime video ma questa cosa esiste anche su altre piattaforme cioè siete felici di questo cambiamento io devo essere onesto non è il fatto di pagare diciamo un plus per non vedere la dannatissima pubblicità che magari posso pure permettermi ma non tutti magari ce lo possiamo permettere o vogliamo farlo è una questione legata al fatto che spesso mi piace e credo ci piace vedere i contenuti in streaming perché al contrario della tv dove la pubblicità è davvero tanta in streaming puoi vederli o potevi meglio vederli senza le interruzioni ed era insomma una cosa veramente comoda e piacevole e appunto non c'è stavano questi fastidiosi spot pubblicitari ovviamente ragazzi sappiamo tutti che la pubblicità ci deve essere non possiamo abolirla mi aspettavo questa cosa insomma che la pubblicità avrebbe invaso anche il mondo dello streaming in quanto negli ultimi anni le piattaforme streaming stanno prendendo molto piede cioè quanti di voi in realtà ragazzi guardano la tv parlo dei giovani nel senso io non so giovanissimo però se guardate i giovani fatta eccezione magari per un contenuto specifico un programma beh pochi ragazzi guardano diciamo la tv e sono diciamo più orientati verso queste piattaforme streaming magari netflix prime video disney plus e questo aveva quasi diciamo passatemi il termine eliminato la pirateria quindi diciamo che una cosa che mi viene in mente è che con l'arrivo di queste pubblicità la pirateria potrebbe essere incentivata di nuovo ok perché magari non vuoi vedere la pubblicità al posto di vederti il contenuto appunto originale vai su qualche sito insomma particolare e ragazzi il 90 per cento insomma delle persone preferisce fruire i video sul tablet sui pc sui smartphone insomma diciamo che questo arrivo delle pubblicità appunto era inevitabile tra l'altro tutte queste cose che vi ho detto se andate a leggere in giro sono comprovate da dati cioè la scelta preferita per i telespettatori di età pari o superiore a 55 anni è la tv classica invece i giovani appunto come vi ho detto preferiscono tablet smartphone insomma è tutta questa roba qua tra pressioni economiche e l'aumento della concorrenza per far crescere gli abbonamenti ai servizi streaming quasi tutte le piattaforme di contenuti video premium hanno modificato i prezzi e abbracciato appunto l'introduzione della pubblicità onestamente non sono un esperto ovviamente in questo campo e non mi schiero né a favore né contro per il fatto che appunto non ho le nozioni sufficienti per esaminare in maniera tecnica la situazione però una cosa ragazzi è molto evidente questo diciamo questo business delle piattaforme streaming è molto forte ed è in espansione in crescita mi auguro che questo non determini una eccessiva presenza della pubblicità per quello che ho potuto vedere insomma e testare con amazon prime perché tra l'altro lo sto utilizzando un pochettino di più ultimamente alla fine diciamo questa presenza non è così fastidiosa diciamo dai su poi fino a che il costo è così basso è anche diciamo ok non so ragazzi la situazione sulle altre piattaforme non ho ancora provato e diciamo comunque sperando che questa di amazon appunto non sia una mossa astuta di marketing per insomma come dire lanciare un messaggio chiaro ai competitor cioè ti faccio magari pagare meno rispetto agli altri non so i prezzi delle altre piattaforme però quello di amazon credo sia il più basso di tutti ragazzi correggetemi se dico cavolate sotto nei commenti comunque detto questo spero che questa chiacchierata sia stata interessante fatemi sapere come la vedete voi se vi piacciono queste pubblicità nei contenuti streaming o vi danno fastidio detto questo il video finisce qui come al solito vi invito a iscrivervi al canale lasciare un bel like o dislike commentate condividete attivate la campanita dei notifichi non perdervi gli altri video supportare il canale vi ricordo che siamo live anche su tiktok per sapere quando siamo live guardate le nostre storie instagram e noi ci vediamo alla prossima ciao a tutti essere o non essere oh ah che bella pisciata che bella ah che bella ciao a tutti Iglian